Allora procediamo con la prossima categoria, categoria trasporto ed energia. Bene, parliamo di trasporto e quindi torna con noi il country manager di Autoscout24, Vincenzo Bozzo. Ribonasera, bentornato. Microfono e busta, e anche in questo caso andiamo subito a vedere quali sono le nomination per la categoria trasporto ed energia. Atm.me.it Playenergy.enel.com agriculture.newholland.com ford.it The winner is New Holland Agriculture. Ok, allora vediamo subito il video. Grazie. Grazie. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti A chi capita capita Ma almeno avete vinto Complimenti Grazie Prego, arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti